Siamo a Vieste presso il ristorante Vecchia Vieste, uno dei più rinomati della città, siamo con Michele Lanave. All'interno di questo ristorante qualche giorno fa è accaduto qualcosa di veramente increscioso. Cerchiamo di fare chiarezza, che cosa in realtà è successo? Sinceramente un vecchio cliente che veniva spesso, venne a mangiare qui, notò che c'erano due ragazzi di colore e poi da quel momento lì non era venuto più al ristorante. Il giorno prima che fece il post su Facebook e non pensavo che aveva tutta questa, che ho alzato tutto questo polverone, mi disse che non veniva più, mi aveva abbandonato e poi mi confermò che non veniva più perché c'erano dei ragazzi di colore che secondo lui non potevano stare nelle cucine perché puzzavano, che comunque diciamo che è stata una situazione un po' razzista dove io ho preso posizione dicendo senti persone come te nel mio ristorante non le voglio più. Però l'ho voluto denunciare sui social per umiliare questa tipologia di persone per far capire che c'è tanta gente che non la pensa come lui, quindi noi stiamo continuando a lavorare senza problemi. I ragazzi come l'hanno presa questa forma di razzismo nei loro confronti? Sinceramente i ragazzi non sapevano niente perché era una situazione mia, personale, per mettere a luce i miei seguaci di Facebook. Però poi l'hanno saputo. Eh poi sì perché per la cosa si è gigandita e le ho dovuto spiegare un attimino la situazione e ha detto no non ti preoccupare, siamo abituati. Quindi lei ha salvaguardato i suoi dipendenti perché in questo caso non c'è colore che tenga. Sì ma oltre a quello il problema è anche un altro perché non è la questione soltanto del ragazzo di colore perché giustamente poi sono il titolare e devo gestire io i miei dipendenti. È assolutamente impossibile tenere in un ristorante persone che igienicamente non stanno a posto, cioè ci mancherebbe. Sarebbe la cosa che poi può essere di colore o non può essere di colore ma igienicamente il titolare deve comunque intervenire se ci fu una situazione del genere. Anche se non è così. I ragazzi sono puliti, educati, volenterosi, disponibili, niente da dire. Anzi ci hanno portato un bel sorriso nel ristorante nonostante tutti i problemi che hanno. E da oggi il cliente cosiddetto storico non è più storico? No non è più storico perché anzi mi fa piacere che alla fine, anche perché questa è una situazione che ormai diciamo che questo posto è partito involontariamente ma alla fine sto difendendo anche la categoria. Anche perché ormai grazie a questi ragazzi abbiamo possibilità di trovare personale che può fare i lavori umili tipo la plonge, lavapiatti, lavapendole che non se ne trovano più, non esistono più.